salve ragazzi e benvenuti in una nuova puntata qua sul canale di studio noisis e oggi parliamo parliamo di un filosofo che mi avete chiesto in tanti di trattare e siamo arrivati finalmente al punto in cui oggi parleremo proprio di kirkegaard alcuni pronunciano kirkegaard alla danese ma noi ci atterremo alla pronuncia scorretta per pronunire di kirkegaard che sicuramente non si immaginava minimamente che con il suo pensiero con la sua filosofia eccetera avrebbe dato vita a quello che è a tutti gli effetti uno tra i più importanti movimenti filosofici penso degli ultimi due secoli infatti stiamo parlando niente di meno che dell'esistenzialismo ovviamente prima di continuare ti ricordo che puoi sostenermi con l'iscrizione al canale che è totalmente gratuita o con un mi piace o condividendo il video così mi aiuti a portare tanti altri contenuti come questo in maniera totalmente gratuita ma adesso bando alle ciance e continuiamo a parlare di questo grandissimo filosofo sebbene oggi con il termine esistenzialismo si faccia riferimento a pensatori pressoché antitetici tra di loro possiamo provare a pensare a Sartre che era ateo nichilista eccetera o ad esempio al teologo protestante Karl Barth che per un verso o per un altro per alcune delle loro opere sono state sono stati accusati tra virgolette sono stati rinchiusi nella cerchia degli esistenzialisti beh quando le opere di kirkegaard iniziarono a circolare il termine esistenzialismo venne per lo più associato invece a un pensiero filosofico con due caratteristiche principali la prima lo vedeva come una filosofia che aveva lo scopo di muoversi sui piani totalmente diversi dalla sistematicità ritenuta ideologica dei sistemi che abbiamo visto poche lezioni fa gli idealistici, razionalistici, criticistici quindi stiamo parlando di chi? Hegel, Kant, anche Spinonza e questi pensatori invece la seconda è il secondo potremmo dire carattere dell'esistenzialismo di kirkegaard è quell'esistenzialismo che vuole promuovere una riflessione sull'esistenza appunto quindi qualcosa che non può essere valutato in meri termini quantitativi e che riesca invece a spostare la ricerca su un'idea di esistenza che venga studiata nella sua consistenza qualitativa e non più quella sorta di idea di filosofia che voglia rinchiudere il pensiero a mera quantità perché l'idea di fondo è per fare un esempio che l'esistenza di un homo sapiens prima ancora che essere la noiosa riproduzione su scala di una scimmia nuda che mangia, copula e muore in una serie di noiosi meccanicismi circolari posti al servizio di una specie tiranna questa stessa creatura è prima di tutto un uomo ci dirà l'esistenzialismo è un uomo unico e irripetibile frutto di una combinazione irriproducibile capace di provare di sentire e di vivere con un'intensità tale da non poter essere incasellato in schemi precostituiti in schemi potremmo dire scientificamente predisposti che esauriscano l'esistenza dell'essere umano ecco quindi che se l'uomo è prima di tutto questa eccezione irripetibile non c'è sistema filosofico che abbia alcuna possibilità di esaurire il tutto in un sistema perché ogni individuo ogni uomo in ultima istanza si presenta lui stesso come portatore di un suo universo interiore e infinito e adesso partiamo però facendo alcuni accenni biografici perché ci siamo un po' persi ma è giusto anche capire perché perché la vista la vita stessa di kirkegaard è stata una vita esistenziale in senso pieno infatti kirkegaard è morto giovanissimo a soli 44 anni ed era nato nel 1813 a copenhagen quindi parlava danese e anche questo fu un ostacolo un po' la sua diffusione delle sue opere però conosceva molto bene la filosofia idealistica la sua vita fu costellata effettivamente da pochissimi avvenimenti in senso pieno ma questi stessi avvenimenti poi esercitarono una grandissima influenza per lo più negativa sulla vita del filosofo l'esperienza più traumatica e celebre anche della sua vita sarà il fidanzamento con regina holster che si interruppe improvvisamente per volontà dello stesso kirkegaard che dirà di non riuscire a farsi carico di una relazione con lei quindi comunque potremmo dire qualcosa che segnò profondamente anche il pensiero di kirkegaard segnò le scelte che andò poi ad intraprendere nella sua vita una delle opere principali di kirkegaard ad esempio sono i suoi diari questo per farci capire quanto è importante l'esistenza del filosofo interconnessa con la sua vita con la sua esistenza appunto kirkegaard parlerà più volte ad esempio di un avvenimento che ha segnato la sua vita arrivando a far riferimento addirittura a un grosso trauma interiore lo chiamerà in alcune parti del suo diario o addirittura a una scheggia conficcata nelle carni gli studi in merito alla sua biografia la sua vita eccetera più che riferisse ad avvenimenti concreti hanno ritenuto che kirkegaard facesse riferimento invece a dei travagli personali suoi interiori delle depressioni degli esaurimenti chissà però questi travagli sono poi quelli che hanno definito e alla fine innervato tutte le sue riflessioni filosofiche tra le sue opere principali quella che ci dovremmo ricordare sono sicuramente la famosa raccolta di saggi che è stata pubblicata anche da Delphi mantenendo il suo titolo originale danese a Delphi ha pubblicato con il titolo Enten Heller ma più comunemente si trova con il titolo latino soprattutto quando non sono pubblicate perché sono cinque volumi di saggi quando sono pubblicati solo delle raccolte eccetera ad esempio la Mondadorina pubblicate le raccolte così intitolandoli invece nella versione tradotta in latino out out che non significa nient'altro che o questo o quello da poco vedremo anche perché in questa raccolta ci sono sicuramente i suoi saggi più celebri quindi è bene fare un pensiero di comprarla se vogliamo approfondire lo studio su questo pensatore ci sono saggi come timore e tremore, diario di un seduttore, la malattia mortale eccetera ma io non perderei altro tempo e passerei a parlare del cuore centrale della filosofia di Kierkegaard che nient'altro è se non le tre vie e quindi parlando delle tre vie, le tre famose vie etica, estetica e teologica di Kierkegaard parliamo sicuramente di che cosa? Cosa sta al centro di queste tre vie? Sta la finitezza tutta antropologica che riguarda la vita dell'uomo per Kierkegaard sono appunto tre le vie che si aprono davanti all'uomo che l'uomo di fatto può scegliere come abbiamo detto la vita è quindi fatta di scelte ma le scelte non sono compiute quindi a caso perché uno potrebbe dire eh ma quindi se io scelgo di essere posso fare una scelta in un determinato modo e poi posso scegliere un'altra cosa invece no ci dice Kierkegaard c'è un criterio con cui l'uomo sceglie c'è una radice da cui nascono le sue scelte è ovvio che se un uomo agisce immoralmente in un campo non possiamo poi aspettarci che quest'uomo faccia delle altre scelte morali cioè se un uomo ruba sarà portato a rubare ogni volta che che ne sente l'esigenza che ne ha l'occasione soprattutto ecco che allora Kierkegaard arriva a sintetizzare le tre vie in cui grosso modo si inseriscono tutti gli uomini si inserisce e sono tre canaloni che tutti gli uomini si ritrovano a vivere sono la vita estetica la vita etica e quella religiosa attenzione questi però non sono i gradini di una scala come a volte si sbaglia pensando quindi non c'è un'evoluzione da una fase all'altra non sono i gradini di una scala che ci porta verso la felicità e non sono nemmeno potremmo dire non c'hanno neanche un'implicazione morale questo è più giusto questo è sbagliato eccetera ma ognuna di queste fasi è separata da un abisso dirà Kierkegaard da un salto ontologico ogni stadio rappresenta una vita a sé facciamo un esempio l'uomo che vive in uno stadio estetico la via estetica e a un certo punto decide di passare a uno stadio etico per le sue mille ragioni deve compiere un taglio con la sua vita precedente deve compiere una biura delle sue scelte estetiche non può mixare o ibridare queste vie uno stadio esclude automaticamente gli altri ma allora partiamo cercando di capire innanzitutto cosa sono queste vie e partiamo dal capire cos'è il primo stadio che è lo stadio estetico questa è la via del Don Giovanni per intenderci Kierkegaard appunto parlerà proprio del Don Giovanni nella sua opera nel suo saggio il diario di un sedutore contenuto nel già citato Enter Heller vi lascio qua sotto il link all'opera la vita dell'esteta è una vita particolare che ruota intorno all'eccentricità e che vuole bandire tutto ciò che è banale l'esteta è questo l'esteta è appunto varietà l'esteta è cambiamento continuo è frenesia quello che dice chiamerà l'esteta è il dionisiaco il suo più grande amico infatti è tutto ciò che è quotidiano tutto ciò che è banale la vita estetica non tollera la ripetizione ad esempio il Don Giovanni dell'opera mozzartiana è l'emblema perfetto dell'esteta perché è colui che ha imparato non tanto ad abbuffarsi di piacere come fa l'ingordo ma con occhi esperto impara a godere solo del meglio di ciò che è più intenso e appagante in questo frangente potremmo dire che il Don Giovanni è un epicureo alla decima è un epicureo alla sua massima apogeo alla sua massima espressione quindi la vita estetica sembrerebbe tra l'altro anche la più desiderabile salvo poi condurre inevitabilmente ci dirà Kierkegaard alla tragedia al dramma questo tripudio infatti di piaceri di delizie chi più ne ha più ne metta in un primo momento soddisfa l'esteta ma presto o tardi finirà per annoiarlo e la noia non è tutto perché la noia è solo l'anticamera di ciò che poi diventa la disperazione la disperazione che sta per investire il nostro Don Giovanni in maniera irrimediabile la disperazione però è anche potremmo dire l'ultima chiamata ciò che può condurre l'esteta alla morte ma anche alla salvezza perché la disperazione pone l'uomo davanti al bivio o la morte o la scelta la scelta ovviamente quindi non può che essere quella di cambiare vita Kierkegaard scriverà scegli dunque la disperazione disperandoti si sceglie di nuovo e si sceglie se stessi non nella propria immediatezza ma si sceglie se stessi nella propria validità eterna solo nella disperazione nasce la vita etica che implica stabilità continuità cioè caratteristiche antitetiche rispetto al Don Giovanni del primo stadio e quindi arriva il cambiamento il cambiamento come abbiamo detto prima non è un'evoluzione è un cambiamento è una cesura è un taglio la vita etica ci proietta in questo taglio Don Giovanni si evolve la seconda figura simbolizzata da Kierkegaard è la figura del marito che è contrapposto al sedutore cosa c'è di più contrapposto rispetto al sedutore della figura del marito le parole chiave di questo stadio sono matrimonio e lavoro in queste due condizioni il marito trova la sua felicità questa gioia però non scaturisce più da situazioni estemporanee come accadeva al Don Giovanni ma dalla stabilità che lega il marito alla moglie e che lega l'uomo alla sua comunità nel lavoro l'uomo in questo stadio si riallaccia alla sua storia e solo apparentemente sembra isolarsi solo apparentemente il marito sembra una figura più isolata rispetto al seduttore infatti potremmo dire il marito è quello che rinuncia alla mondanità alla vita dionisiaca alla frenesia alla vita estetica ma nel profondo ci dirà Kirch che a quest'uomo in verità è estremamente connesso perché a differenza del Don Giovanni che ad esempio ha tutte le donne che vuole ma con nessuna di esse riesce a creare un legame riesce a entrare in relazione il marito pur riducendo le sue relazioni ne fa il fulcro della sua vita il marito trae dalla relazione la sua linfa vitale ma per Kirch anche la vita etica è destinata potremmo dire a finire a non esaurire l'uomo a non renderlo felice per essere quindi la condizione del marito finisce per essere una condizione fragile estemporanea che nuovamente riapre le esigenze di una scelta Kirchner ce la spiega così ora che il marito è pacificato ha la possibilità di rivivere tutta la sua esistenza anche gli aspetti più duri anche gli aspetti più dolorosi della sua vita in quel suo rivivere quel passato così duro magari nel suo rivivere il suo passato da seduttore nel suo rivivere quel passato l'uomo l'uomo etico si riconosce come colpevole si riconosce come desideroso di perdono e la domanda che imprime che attanaglia il cuore dell'uomo è ma chi mi darà questo perdono chi è che mi darà questo che mi darà potremmo dire la soddisfazione del pentimento ecco che allora il pentimento mette in scacco l'eticità l'uomo pentito può chiedere perdono ma chi è che può effettivamente perdonarlo ora la scelta che tormenta il marito è o mi tengo questo pentimento senza perdono e quindi non potrò più vivere la mia vita etica oppure chiedo un perdono a un'entità superiore quindi mi proietto nella terza via mi proietto in uno stadio religioso perché la mia etica non è più in grado di darmi ciò che mi renderebbe completo non è più in grado di darmi questo perdono ecco che allora lo stadio religioso si apre come completa antitesi dello stadio etico sembra però che abbiamo detto un'assurdità infatti abbiamo detto etica e religione il momento etico e il momento religioso sono effettivamente momenti in antitesi cioè come è possibile che due momenti che nella ragione dell'uomo comune sono effettivamente estremamente interconnessi tra di loro nella mentalità nel filosofo di Hirkegaard diventino due momenti in netto contrasto perché se la figura del seduttore è ovviamente in contrasto con la figura del marito ecco che nel momento religioso non riusciamo immediatamente a far vedere come il momento religioso sia antitetico al momento etico per dimostrarlo che Hirkegaard utilizza un passaggio dell'antico testamento cioè il sacrificio di Abramo Abramo nella storia infatti rappresenta l'uomo etico per eccellenza marito padre uomo onesto pio Dio ad un certo punto cosa succede nel racconto che Dio gli chiede di immolare il suo unico figlio Abramo pur di eseguire l'ordine dato gli dal Signore compie il sacrificio non è che lo porta a compimento però non gli nega il figlio non nega il figlio Dio quindi rinuncia all'essere un uomo etico per farsi un uomo religioso nel sacrificio c'è la completa rinuncia di Abramo alla sua eticità Abramo non solo rinuncia al suo codice etico ma nel crimine è disposto a rinunciare anche alla relazione con la sua comunità quindi alla relazione con le persone con cui lui vive perché si fa assassino si fa criminale quindi si fa reietto agli occhi dei suoi concittadini quindi nel terzo stadio l'uomo torna a conoscere la solitudine questa volta data dalla fede quindi non più la solitudine del seduttore ma la solitudine del fedele e lì solo in quella solitudine matura lentamente la relazione con Dio quindi la fede è il dominio della solitudine ma quando l'uomo etico può abbandonare il suo codice di valori per passare allo stadio religioso perché se no ogni criminale potrebbe dirsi profeta invece quando è che l'uomo ha la certezza di essere pronto a colmare quell'abisso tra i due stadi quando è che sa che è pronto a compiere quel salto l'iscrimine è solo uno ed è l'angoscia non è una risposta precisa ma Kierkegaard è sempre così un po' esistenzialista nelle sue risposte nella via religiosa l'uomo capisce che la fede può essere solo paradosso e scandalo quindi non può essere qualcosa di razionalmente praticabile di razionalmente concepibile di paradosso infatti è piena fede stessa prendiamo qualche esempio prendiamone un paio di esempi per mostrare come non ci sia fede nel cristianesimo la fede è totalmente contraddittoria infatti pensiamo all'esempio di chi crede in un'ottica di fede chi crede ha più probabilità di salvarsi quindi essere credenti dovrebbe essere un merito ed è un merito no perché per la stessa ottica della fede è Dio che ti apre gli occhi è Dio che ti fa dono della fede pensiamo alla parabola al racconto della conversione di San Paolo quindi tu non credi per merito tuo ma per merito di Dio eppure credendo hai effettivamente più possibilità di salvarti rispetto a un non credente e questo è un paradosso perché significa dire che Dio concede dei favorichismi in maniera arbitraria ad alcuni e ad altri no un altro esempio riguarda invece ad esempio la rivelazione il cristianesimo nasce e viene riconosciuto come religione nel momento stesso in cui Gesù muore sulla croce e col tempio che si spacca quindi la divinità che per sua stessa essenza è immortale si afferma come divinità nel momento in cui muore che è la cosa meno consola per una divinità morire perché la divinità è per sua stessa essenza appunto immortalità l'uomo quindi vivendo questi paradossi riesce però finalmente a entrare in contatto con l'essenza sua propria c'è tutto il contorno che abbiamo fatto che Kierkegaard ci fa l'angoscia la possibilità la scelta che ci rende liberi ma che ci ma che in un certo senso ci vincola ci crea questa questa vita tribolata cioè tutta la condizione dell'uomo si spiega attraverso la paradossalità della fede la fede come la viverà Kierkegaard ovviamente si capisce è profondamente una fede profondamente eterodossa rispetto ai canoni della chiesa danese ottocentesca e Kierkegaard ne era perfettamente consapevole ci scriverà proprio in merito ma abbiamo detto che la chiave di tutto questo terzo stadio appunto rimane l'angoscia e di angoscia parleremo nella seconda puntata che dedicheremo a questo grande pensatore io intanto ti ringrazio ovviamente iscrivendoti al canale gli rendi un grande servizio e lo aiuti a crescere in maniera totalmente gratuita se i contenuti ti piacciono puoi anche lasciare un like e condividerlo intanto noi ci vediamo nel prossimo video grazie mille grazie mille